Ho visto tanti uomini fuori condizione, fuori forma. Penso che anche se la squadra adesso gioca va bene, però si portano dietro un po' di peso diversa gente. Questo secondo me, lo dico da tifoso, da pescarese, non come critica. Però penso che Mascare, Cutolo, Sforzini, col gioco d'oggi non c'entrano più niente. Perché oggi ci vuole la velocità, ci vuole la tecnica, ci vuole il pragmatismo. Sì, potranno fare anche un bel gol una volta, possono anche far alzare in piedi le folle, però nell'economia di una squadra secondo me non c'entrano più niente.